bene siamo scessi un altro poco vi ricordo siamo sul sul mitico macio piccio qua abbiamo degli amici che non pensavamo di incontrare proprio qua questa è evidentemente la loro residenza proseguiamo con il nostro percorso quello che i peruviani chiamano il recorrido è più giusto parlare di peruviani visto che siamo in Perù bene stiamo andando verso quest'altra area cada una di queste aree che ci stiamo per adesso per incontrare evidentemente si suppone avesse delle specifiche funzioni lo andremo a vedere adesso mano a mano che che proseguiamo nel nostro nel nostro itinerario ma sempre abbiamo la punta della montagna bene eccoci qua andiamo a specificare bene la punta Grazie a tutti.